è brucia porco no allora love mate grazie bel mio grazie mille love mate ciao bello la bella figa allora qua nintendo ok no signal l'importante è il no signal si si un attimo perché c'ho ok eccoci qua ragazzi eccoci qua bentornati e ben ritrovati oggi giochiamo a freccette con il grandissimo leonardo de becchino tu c'hai mai giocato con me a freccette no no manco io c'ho giocato la freccette mai non c'ho mai giocato comunque è caldo come la merda caldo ma più caldo che c'ho lo stomaco proprio che sta ma c'è allora qua praticamente tu c'hai questo qua ti fa cucine ma devo lanciarlo sullo schermo cucite metti qua davanti ta la botta secca ok capito inizio io allora tutto ce l'ho pigli qua il centro e no no trepti la testa che merda 9 meglio di niente ma vaffanculo di assieme aiutare aiutare e non ho messo a testo a cacassi cioè non so mi sono di poter me devo fare i pere vai a che cazzo per me o per pure con me ecco questo dei fatti ho capito ma no beh dai non vuole ma dovrebbe che tasto a cene i premi e questi due a questi due dei premi questi due no gira così no fermo 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 così qua questi due qui c'è qua questi due del lato qui c'è capito ok oh camadonze vai le ho messo fatto fa uno prima da me porca puttana io fate un bello prediction ragazzi si no ma purcon diavolo muerto ma che c'è No, lascia, lascia. Ok, lo puoi ribuntare poi. Oh, la madonna. Ma non ce credo. 25, il centro è 50. Centro preciso. Oh, 20, 25, 50. Oh, però. È a me io. Stiamo di lì, eh. Stiamo di lì, stiamo. Non ce credo. Centro. 17, porco. Porco Dio, guarda. Non ce credo. Vai, vai. Sì, sì, c'è te. Oh, la madonna. No, l'è. Ha 3, è me costi 3. Mi scherzo ovviamente, eh, ragazzi. Magari, ci provo. Eh, però, volerei un 50, faccio un 53. Qual è la cosa che ti dava più punti? No. Quello lì sotto, quello rosso lì. No, porca, va. Eh, 60? Eh, non è male, eh. Mantello giocata tutta la notte, ma che non c'era tutta la notte? No, orco, Dio, ma questo 3 è merda. Tranquillo, la chiusura è difficile, ho messo la più difficile. Uno. E quattro, io ho un altro. Vai, vanno fuori. Oh, 19, non è male. No, non è una figlia di moglie, te, guarda. La fa culo lei, però. Oddio, è magnata che te moglie. Sì! Un monstro che è sardegno. Ah, esatto, lei aveva i punteggi. Aspetta, aspetta, c'hai ragione, c'hai ragione. Io. Grazie mille, la mamma è comunque. Oh, 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 oh. Eh, ma il centro, proprio centro-centro. Quanti punti è, ragazzi? Centro-centro. Voi sapete il centro quanti punti sono, tipo? Eh, se non lo chiamo. Ma che schifo. Uno. Dai, ieri, porco. Dai, di resta te io, leo. Oh, ma l'hai fatto pure tu. Fuori. Al cammino. Non ce l'ho. Non ce l'ho, credo. 19. Allora, ci sta questo qua, che è tipo 60, questo. 20 per 3. Tu lo sai. Allora, un po', fratello, ti sto recuperando. Sì, sì. Sì, sì. Sessanta, eh? Ah, 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 le. A coglioni. Oh. Centro pieno, 50. Eh, hai visto, fratello. Eh, però il rosso sopra ti dà di più, perché 20 per 3 fa... Oh, Dio, è me sto tre de' merda. Vabbè. Ok. No, vabbè, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta. Wow. Dio, è me la trota. Ambo la madonna. Andiamo dando, ma non chiudi. Ah. Eh, fatto troppo. Ah, ah, ah. Ma che significa chiusura doppia, ragazzi? No, no, ma come in doppia devi... Ma come in doppia? Non so che significa. Eh, che dobbiamo chiappare per forza questi. Questi bisogna chiappare per forza. Due volte? No. Bisogna, ne so, 13. Io lo devo essere tipo set... Ah, vabbè. Ah, ma io non lo so. Centro. Doppia il cerchio esterno. Ah, ok. Quindi? Quattro per due ti serve uno, se ti serve un otto, ok. Non lo so. Oh, 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 oh! 13 ti fa. Porco modonne che tiro. Meno uno. Dio. Via. La son rotta la bunda, porca broia. Forza le spinge. Ok. Mamma mia, oh! Madonna! Il corpo è dentro! Non ce l'ho. Mamma mia. Tanto non chiudo, perché non posso chiudere, però. Oh! Però posso fare 26. Ecco. No, puoi chiudere, Dio, porco. Posso chiudere? Lì, a sinistra, vedi? A destra. Tu, questo arancione. No, lei! Non ce l'ho. Ma te. Ma te, sogna. No! Perché adesso arriverà quella. No! Arriverà proprio questo. No! Porco, no! No! Porco, no! No! Porco, no! Che cazzo, che paura! Mamma mia! Che paura che mi ha pigliato, lei! Uno. Per due. Ma che significa uno per due? Non ho capito. Non ho capito come si fa a vincere adesso. Eh, non te lo segna. Eh, perché? Non lo so. Ma vede se chiappo tipo... Eh, poi che devi fa? Ah, ecco, sì. No! Oddio, non è. Ah! Oddio, mi sei! Sì! Vai, cazzo! Uno a zero! No, chiusura libera. No, chiusura doppia. A mo' ti faccio lo culo, mo' Mo' ti faccio vedere. A vero, a vero. Sì, sì, mo' ti faccio vedere. Tocca a te. Tocca a te, sì. Che cazzo fai? Ma me lo stai in manomette? Sì. Eh, fermate. Eh, dai, no, non va. No, me lo stai in manomette. Eh, dai, pezzo del merda. Eh, dai. Tocca a te qui su, bastardo. Porca troia, le. Oh, cazzo. Oh, 60. Bravo, voi. Eh, 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 è male, 60. Eh, 60, addio. 60, addio. Tanto perdi la fine. Eccolo! Centropieno! Madonna lei, ma come fai? No, eh? Ma porco piavola, però. Ma come cazzo? Tu usi trucchi, eh? Io usi che, l'astardo. Eh, ma tu non sei trucchi, cazzo. Vai, 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 vai. Allora, grazie mille Bigolas, è un numero uno. Grazie mille. Grazie. Grazie mille, 100 bis. Grazie mille pure il Borrelli, Sborelli. Cioè, bello. Lo sai che Bigolas è stato delle parti nostre? Sì, lo so, lo so. E mi ha messo il marmo. Ah, sì? Eh, no, sì, non mi ricordo che ha fatto. Cioè. Ha pure stremmato per me. Ah, allora. Ah, sì, è vero, mi ricordo da un tempo fa. No! Eh, sì, è vero, è vero, sì. Eh. Porco, perché? Leda, è l'agia, deve fermi questi tasti? Porco di. Dai, raga, mi sta, non male, mi sta a truccare la cosa. Qua, mi sta a premi i tasti. Guarda, 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 guarda. Eh? Ma come cazzo fai? Perché? Più là? Più là? No! Vai, vai, vai. Fai la senza guardare, senza guardare. se no io guardi che 15 se gli guardi fai faccio 25 senza guardato bello non è male o con diaz no 60 triplo 20 e cazzo non ci credo guarda un po come dove sto 2.30 eh 20 cazzo eh no però 3 no ne ok dai calmi calmi 43 guardate non è male non è male ragazzi non è male non è male calmi calmi oh camadonza 60 60 potevo far meglio però anche 60 dai dai devi fare 1 1 1 1 1 1 dai io piada l'anderculo che cazzo stella che ha l'arco che va dove è una freccia più lari, esatto, lì, lì, mira lì bravo, qui c'è, no più il destra più a destra, bravo bravo guarda un po' non la chiudi fanculo lei dai tu mi fai sconfondermi ma io mi faccio sconfondermi adesso ho fatto gli ed e sta fa un bocchino buco su qua che madonna sta fa codice stu cinque del merda non ci credo non ci credo non ci credo non c'è credo non ci credo guarda come la chiude no, troppo no, porco dio No, non ci credo ne Guarda come ti chiappo quello in mezzo Guarda come Guardala, guardala, guardala Guardala, 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 eh Guardala, guardala bene, guardate bene, guardate Guarda come te la chiudo Guarda come te la chiudo Guarda come te la chiudo Non ci provà, non mi tocca, non mi tocca Non mi tocca, no, raga Guardate quello che sta a fare Io, 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 io Sì Sì, sì, guarda Sto volando, mamma Sto volando Cheese Faccio volare il gaming booster Deve la Sto fa un buchi Sì, guarda che bello Questo è un blowjob con risucchio Il tuo risucchio Non mi fari No, non mi fari Devo farlo qua perché non mi vado a pulire Ok, non te faccio rire, dai, giuro Dai, non me ne faccio rire No, giuro, non ti faccio rire Ma scotta Dai, ti metto in mano E prendilo in mano E prendilo in mano No, scotta E dai, prendilo in mano Dai, 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 dai, vai, prendilo in mano Mi sto anche a cazzo Mi pari di nonno Ascolta, cazzo Io, ora tocca a me però Eh, vai Ora tocca a me, dai, vado il bo Vai, vai, vai Vai di più in là No, tocca a te, Dio Sì, sempre togli la cosa prima Oh, che è? No, no, è truccata No, ma è truccata la fregna No, mi si è sbollato Dove sta l'ugoso? Perché me Ecco Ah Allora, grazie mille Borrelli, sborrelli Grazie mille Grazie Mettete chiusura in doppia Ah Ma porco, Dio Non voglio queste mie Però Però Guarda come te la metto in mezzo Orco, Dio Un pochetto più là, no? Più qua, guarda Qui, sì Guardalo, guarda come te lo metto dentro Guarda come lo metto dentro Orco, Dio Però dai, non è male Non è male Sì, sì E dai È la prima volta, eh Io lo sono fatto già Dere tre, quattro volte Sì Porco, Dio A mogli la gufe Un pochetto Dai, vinci tu stavolta Dai Mu' sto a tryar da Questa è la level up Che mi fa vincere Oh, lo vedi questo centro? No Vai, vai, vai Continua così Tu godi, eh? No Bello Ma te stai da bomba, eh? Non ci credo Guarda Si spiato la fine Ok Ok, così Ok, vai, vai Vai, vai Qui si guarda Guarda, guarda Qui si Eh, ta Guarda, guarda Guarda come piglia tre Dai Guarda, guarda, guarda Guarda come faccio ta Qua sul venti Guarda che sta Tra poco sbolli tutto Sbolli Eh, gli da me, dai Ma che gli da bene 12, 5, 5 Eh, da me, dai Dio, il Cristo di Dio Centro Ah, tu fai piano, ta Io lo devi mettere Piano piano, guarda Pezzo di merda E ci prova Capito? Capito? Rattura le coglioni Guarda che chiamano Di fa Di fa Appendendo Deve essere appoggio Bravo, così Appoggio Appoggio Vai Dai Dai Capito? È tipo Un Un culo Vai con tre Vai uno Ah, paro Vedete? Deve essere un Dai, rifanno Fammi vedere come fai Ecco, bravo, bravo Ecco Vedi, vedi che funziona Guarda Eh, no, però Pa lo devo fai io Ah, ok E fermate Pa 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 Ma porco Dio Pa 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 Scusa Porca Madonna Però Ma questo è culo Però, eh Andava bene Eh, vedi La delicatezza Della freccia Centro Pa Pa Ma si sbagliate Porca troia Ma madonna Me li si mannate Pa 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 Oh, oh, oh È troppo Pa Eh, sono un rappondaggio Coiore Porco Dio Me ne avevo visto Non lo so visto No Me l'avevo visto Cazzo Pa Non l'avevo visto Pa No Pa Pa Guarda che culo Pa Pa Cazzo Non l'avevo visto Sovrappondeggio Pa 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 Lo so messo Lo contrario Pa 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 Porco Di Porco Porca Madonna 49 Zitto Zitto Io Fa 29 E che Dico Che faccio E bo Ti Uno Cazzo Che te ne so 9 Cazzo 20 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 È giusto Così Va Benissimo 51 No Che culo Che culo No Porco Dio Ricordati Quello che devo fare Io devo fare 20 Quindi ricordate questo Guarda 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 Ricordate Lo Pa No 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 Guarda Ma Ma Fa Di fa No Dai E E E E Porca Madonna Porca Porca Madonna Ma Usi Truc Dio Ma Che uso Usi Truc Porca Madonna È La Sedia Mettete Un po' De qua No 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 Tu C'è La Sedia Da Gaming Vai Mettete Sedute Qua Ma Non C'è La Sedia Cazzo Ma Che Fai Meno Perché Delu Cameriere Ma Come C'è Storto Cameriere Cameriere Motto Io Qua Ne Vado Un po' Questo E' Quello Che C'ha Le Vacche Sì Lo So C'è Ma Io Non Stavi Qui C'è Prima E Dai Oh Fate Più Là Vedi Che Non Cambian Cazzo Siete Ficchi Più Là Sì Se Mi Fai Fai Ma Vedi Che Non Cambian Cazzo Guarda Non Vedi Che Tanto Sbaglio Stai Testa Ragazzo Hai Su De Merda Ma Come Tiro La Frecetta E Vabbè E Fettate Più La Porco Di Dai Ma Stato Storto E Io Trovara Se Chiappolo Gendro Ti Fai Più La Questa Sedia Centro Pieno Centro Pieno L'hai Sentito Quello C'ha Detto Centro Pieno Centro Parli Parli Come Di Centro Centro Pieno Dai 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 Però Non mi fa ride Porca Madonna Però Centro Io Ricordate Tecnica Tecnici Pa 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 Capito Pa Tu Continuo Continuo A Tocca Me Vai Continuo grazie mille matrice e due mesi già bello grazie mille pure a pop salsa 23 ciao bello ciao bella figa ma no porca calmo cade rimane la calma capito i dubbi di bravo così calma una calma sangue freddo orco di amma però freddo sangue freddo sangue barca madonna centro da sud e merda non ho fatto questo fatto questo però no non è vero io non ti facevo no 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 è no perché tu parco di godo non ho fatto quanto non è che se spostano cosa contegono ma di papà di papà ha capito che ci può ci fa può oh porco no a uno ma che tecnici porca pure centro preciso porco di no 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 devi essere più porco di mi fa un cazzo allora vai ho detto che era la sedia non è la sedia perché no no madonna hai visto che non è la sedia sto a fare troppi fail sto a fare troppi fail troppi fail dai eh un bel 60 no zitto zitto che è buono ma che è buono è buono è buono 45 25 porca diavola non ti sbaglio addio dai 19 così almeno 101 è difficile 90 90 può fa chiusura però guarda là la freccetta 10 10 si fa vabbè dai è semplice è semplice faccio fuori dio perché dai perché faccio un frutto sopra un poteggio vai vai buono c'è il 50 adesso amore chi ha purato in mezzo oddio no 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 eh no guarda che porca madonna mi ingazzo eh dg dg allora incazzatemo perché ti ingazzi veramente no mi si è spinto bastardo ma non vale ma ha spinto che pezzo che merda no è truccata raga è truccata no ma ha spinto ma ha spinto cioè ma ha spinto veramente no quando godo se sbagli devi sbagli alle dute si no porca madonna due bar il bar no no fuori ti prego si e vanne fuori dio e vanne fuori porca elbu si si hai visto che non era la sedia hai visto il 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 la porca della madonna era e diciamo il gioco a sordi no no sordi no vai d'acqua a te d'acqua a me porca di quella puttana adesso lo faccio vince guarda sbaglio te le sbaglio tutte te le sbaglio tutte dai centro dai meglio te le cucino non te puoi te gli dai lo facciamo vince ma non è delusione totale troppo forte lui guarda sto a cappella bellissimo gioco comunque il centro pieno si chiama bulla ah bulla si chiama invece il 20x3 come si chiama perché 20x3 più da più punti del petto al centro è perché più difficile secondo me secondo me non lo so ma è più grosso del centro è più grosso è di porca ma è più grosso è c'è c'è il suono è merda io sbaglio pure questo non c'è pure spostato ti sono acchiappato guarda ma porca diavola morta dio ce lo collemo dai ce lo collemo pure questo 50 vai dai vabbè 3 e baffaculo eh no però 15x15 dai ma perché ti riuscardo no oh come on lo scuotro è troppo forte ma porca di madonna no guardala che culo dai c'entro c'è sta che dai è un binocolo oh bello marco dio porca madonna ne feglie deprivavo non ne la faccio me fa male la mano me fa male no porco diem che cazzo avevi segnalato mi si peccato mi si peccato lì dentro l'occhio ma porco dio però no centro pieno centro pieno porco dio ma no con la sinistra è meglio io tiro in piedi centro centro io tiro in piedi porca levate in piedi tiro meglio oh però meglio è un po' meglio si si mettete al centro vai mettete come mi pare centro porco no no non ce credo te sto a pentire una zampata vabbè dai basta te faccio vincere giuro che te faccio vincere ok basta ok ok dai adesso giochiamo dai non faccio meno il serio ok ok no dai veramente dai marco dire impossibile ok tocca te si oh che cazzo devo dire vabbè sbaglio ok calvo 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 a modino proprio qui ci fai guarda oh centro vai dai il cecchino delle barche bravo Alex porco dio porca madonna e tutti gli aggiri in colonna porco dio porca madonna porco dio porco dio ok questo è la forza delle steppie sbaglio centro vabbè bari questa maglietta lì centro però non è male centro ma veramente devo vincere da una nota deve vincere pure per forza porco dio porca madonna ma porcaccio di quello dio di quello centro di dio ma porco di dio porca madonna ma porco dio porco dio porco dai centro mamma da porco dio mi ha inventato su cazzo di gioco di merda ci chiamo bullying ci chiamo bullying cammina gioca dio porco centro porca madonna no ma porco dio porco dio porco dio ricambiando perché se non funziona più vedi ma vatti a forza dei peccati per forza porca madonna centro parco centro porco 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 e da mannaggia la madonna storta porco di che storta veramente oh oh che facciamo lo facciamo vince gioca gioca sicuro eh centro no porco iddio porco iddio porco iddio a mo me sto uncazzare porca madonna però eh troppo forte porca madonna sbatte per te errati che forte sbaglia porca madonna no no c'è uno in più no e porco iddio io cominciavo e paura secondo me come vera dove come vera allora non è possibile puttana madonna tocca a me tocca a te tocca a te parco iddio ma che tu ma che gli ha fatto messo storto ok puttana madonna porca madonna barco iddio parco parco madonna porco dio parco dio dai però ma è storto parco di parco di storto ma porcaccio dio guarda la madonna porco dio mannaggia dio porco dio porco iddio però c'entro pieno ma porca madonna c'ho la tecnica c'ho la tecnica vai fammi la tecnica ma guardetelo a pari porca madonna e porco dio tende verso sinistra tende centro pieno che ero ok nooo ok ok va bene è andata bene centro nooo centro oh centro pieno oh 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 codiazzo non mi rimondo alla fine dai porco porca madonna porco dio porco dio porco dio un bolletto sotto è la sessanta dai vero meglio di prima ok ok oh centro nooo 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 è male però eh sei sei simpatico nooo centro porco dio nooo ma porca madonna ma porca madonna coddio sbaglia allora porco dio ma come ancora quindi domani a casa porca madonna stai facendo un bingo tu non ne hai capito tocca a te porco dio porco porco oh 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 ma perchè va a sinistra dio storto dio storto dio storto mira mentio è storto divo eh aah dio c'è storto ok ma ci sta rubendo non lo so eh E qualcuno soffia Non ce credo Eh, punta un po' verso destra Eh, devi punta verso, capito? Oh! Oh! Prego Porca troia Vai, vai, Dio Vai, Dio Porca Madonna Oh! Oh! Allora è male, eh Cioè, doventi anche tu Porca troia è combattuta, eh Vai! No! No! Oh, non ci credo Ma porca Dio Che culo Centro? No No! Sì No! Cazzo Va bene, però, eh Più o meno Ok Basta Mi sta spostando a video Centro bene Non è male Mannaggia la madonna Triplo Triplo 20 Tra 3 2 1 Ora No! No! Proprio lui, cazzo Non ci credo No, porco Dio Sì Dai, no 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 Voi 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 Lo faccio Voi Voi Agiliamo bullying No 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 Voi te lo batti 10 volte di fine Ma come di Dai Voi ci vuoi bullying No No Porco Dio Io Va bene Allora dovrò fare il serio Ma chi è che Ma sei tu che devi tirà Che tira Ma che cazzo è che tira Che tu volevi che devi tirà Mica io No Vaffanculo Ho detto che devi tirà Dai tira Porco Dio Ok Puntate su de me Camosevigne Centro Puntate su de me Camosevigne Centro Centro Porco Di che culo Ok Ok Ma Ok Ma No ragazzi A me è truccata la partita Oh Sei scriptata È scriptata Sta diventata scriptata la partita Oh Cioè guarda Sì Su Che cazzo Porca madonna Centro Che cazzo Sta succede Ma vai Porco Dio Centro Pieno Ne fai tre Ma in cazzo Centro Porca Madonna Che punta Che punta All'aria L'aria del Piemonte Porca Mi so cagato sotto Ne Annusa Ma veramente La senti La senti Po La benetta Di quelle Proprio Lucica Mamma mia La sto Senti Emo Ma che schifo La senti La ritta Porca Madonna Che punta Queste Porco Di mattati Si smerdato Te lo dico Che ti si smerdano Matteo Questa è merda E quella palletta Fineta Ma proprio Piccolo La palletta Fine Questa è merda Matteo No Uno Due Undici Undici Quell'uno Di merda Porco Diem Porco Diem Ha vinto Raga Ha vinto Che devo Fai Si vende Ormai Si vende Ehi Basta Dai Ma basta Ma basta Porco Te ti so Battuto Sette Ode Gioca No Basta Basta Gioca Bulling Vai Gioca Gioca Bacca Madonna Sì Ma questo Non vale Perché Questo Sfinimento Centro E che Sono Tu Vinci Centro Ma tu Quale Hai visto Queste Pop Sosa 23 Pisto 1995 Tu Mese Re Sub Maestro Fighe Tu Mese Voglio Vedere Chi Tiene In Mano Meglio La Punta E poi Propongo L'evo Bentato Per la Chiusura No 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 Porco Ficchiando Con la Vasella No No 140 No No Ma dai Quell'1 Dio Vuoi un Triple 20 Triplo 20 Per Tre No Te ne Contento Te faccio Il pre Ah Madonne Non devi Fare lo Sborone Con me Perché Che dopo Chi si loda Si sbroda Si sbroda Davvero Buono Cazzo Fica Chi si loda Si sbroda Eh ma So stango Porco Ti È da un'ora Fammi un altro 50 Vai È da un'ora Che stiamo Io Che Con Te Frecce Te ne la faccio Più Non ce Credo Vai vai Fammi Dopi 30 Che Culo Ma Perché No No Ahi va No non ci ho capito perché non me non capisco perché non ci va più ok porca Eva 3 1 oh è storta ok un altro 5 centro non ci credo porco diem ok centro porca Eva non è no ok non sento non te sento più non te sento più mi sento a tappare le orecchie non te sento più non ti arrabbiare non ti arrabbiare parco di dio non te sento a tappare le orecchie non te sento più basta dai ok basta dai giochiamo a bullying dai ci vediamo la partita del bullying ok bullying ma io come se dire devo lanciarlo in cucina non so bullying let's go no no cucini dal basso al solato ah cuciti tu lo fai proprio cuciti ah tocca a me allora come se fa questo? ah devi tenere a cuciti tipo non ce l'avevo l'accetto vero? no no l'accetto serve solo per non farlo ok da con me che bello ci ho letto ok da con me eh mentre lanci sposta ok questa sposta la mira poi così sposta qui ok così pronto? porco di manio ci hai visto? che stai che dio tocca te e come si fa? sposti e poi tieni questo qua dietro quale? qua dietro fai così e quale fa vedere? questo qua no devi tenere per uno eh dai non funziona come cazzo funziona? eh guarda in modo di imparo allora eh ah tocca a te prendila d'incorso in su ok si ma se ci stai tu come faccio? eh ma se ci stai tu come faccio? vai vai ma come faccio? che ti sa? che cazzo sulle palle io ma tutto storto e perché va storto? perché ti radito no ah perché va in base all'effetto gli dai ah so capito furco trovi che missile visto che missile? ok devo tirare giù quelli easy sei veramente la che ha appena vinto perché tanto vai 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 muoio non ce credo strike è buono è buono è buono che culo che culo è buono è buono ma perché come prima? è buono è buono ma perché? perché ne so è buono è buono è buonissimo zero birildio nooo e mo? è niente occhiappo uno occhiappo con l'altro occhiappi da una parte e dall'altra per prendere sulle due? era buono è buono che culo come cazzo hai fatto? queste tecniche sovranaturali secondo me la prima botta era culo puro culo puro secondo me sì perché non so nemmeno tu come si è fatto all'inizio ma che madonna che culo eh 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 che culo eh vai lei vai quanto stiamo? ma non ce credo mai nella vita eh puoi far strike comunque eh cioè puoi buttarli giù tutti eh lo so eh potresti guarda che culo non lo sai nemmeno tu vai 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 voglio vedere io io fammi un po' vedere ciao The Blink tocca a te mi so guarda chi c'è sta c'è sta The Blink ciao ciao The Blink come stai? ah tocca a me ancora ciao The Blink porca troia tocca a me ma tu pensa alla madonna ma ma che fai tu? oddio scusa tocca a te leuco vai leva lui non devi squadra troppo forte dice guarda là guarda lui pirolo de merda vai 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 cattia zero zero ooooh nooo ok ho vinto io ma che sei vinto tu che sono vinto io ero G2 cattroia no vai di nuovo io sono vinto io sono vinto che sei vinto tu io ecco 9 a 2 devo 9 a 2 no che cazzo sto prendendo che cazzo sei tu finito i valli del gruppo che è? no Ale è Luna io sono stanco io stanco dai basta vai ma io sono proprio stanco stanco Ale eh basta si 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 basta 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 allora al culo va male? si oddio Ale io sono proprio stanco eh pure io wow si abbiamo fatto una bella live eh dai la tosta si dai siamo cuginato abbiamo giocato ci siamo fatti due risate abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare dai vai mi siete vada vada si a posto si non so ne vedo più quello che cazzo sto a dire mi siete divertiti con la live di cucina? dai mi siete divertiti? ma gustati i ravioli? ciao ragazzi no abbiamo fatto i ravioli abbiamo fatto l'avevi mai fatta in vita tua lei? no mai fatta in vita mia roba di pasta all'occia l'ho mai fatta mai fatta quindi è scappata bene dai sto contento che è uscita bene benino una cagata pazzesca li siamo fatti a mano perché se li facevamo con con la macchina quindi era perfetto si eh ma perché a mano secondo me dovevamo dargli di più eh di più perché quella vedi come faceva con le maglie dava tipo a menaglie dava a menagli così la capito la stendeva di più una invece troppo amassosa era tutti i miei ma che c'è qua dentro ma che c'è sta ok non lo so mi viene a starnutire eh vuole tu c'è ancora una sì madonna pò ma io devo fatica vuoi dormire qua? no me faccio dopo devo tornare io me devo svegliare le 6 me devo svegliare le 5 se devo portare qua almeno se sto a casa dormo un po' di più solo per quello no dai voglio dormire però dai mi sono divertito dai mi ha fatto piacere tornare anche qua insieme a teo mi sono fatti una bella live e niente teo sta finito sì sì mettete qua sì 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 vai allora ragazzi oggi ho chiesto a Leo se veniva a trovarmi fino a luna bellissimi e io non gliela faccio più io sono proprio stanco stanco morto ragazzi da 1 a 10 ragazzi un 8 9 proprio sto esausto proprio stanco stanchissimo morto non gliela faccio proprio ragazzi sono proprio stanco morto proprio stanco non vedo l'ora di mettere sul letto lì mi riposo sto tranquillo e non vedo l'ora allora volevo dirvi oggi ne siete stati veramente tanti oh ridi scherzi oh 116 sab porca 116 ridi scherzi tante 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 quindi bellissimi noi ci vediamo domani io spero che oggi vi siate divertiti con De Becchino seguitelo pure su Twitch ragazzi mi fate un bello shout out d'arca mo ci sta lo shout out sai mo ti faccio vedere fai un buon shout out a Becchino tu ti chiami Becchino o De Becchino eh come sempre mi sono chiamato ti mando il regappo su Whatsapp ora di che ah è solo là eccolo eccolo grande De Becchino allora ragazzi noi ci vediamo domani alla solita ora intorno alle 6 che fai domani intorno alla solita ora verso le 6 domani dai domani cerco di essere puntuale alle 6 ragazzi noi ci vediamo alla prossima io vi saluto vi ringrazio tutti quanti uno per uno bellissimi io oddio che è aspetta un regappa da che un regappa ah guarda un po' che mi ha detto d'arca guarda un po' è buono? è buono sì perché non è buono per te eh non lo so per te sei buono per te anche questo addio prima ne facevo tre volte meno ah porca troia va beh ragazzi ne siete ogni giorno sempre di più io vi ringrazio eh no gischiando no ride gischiando no mai mai nella mia vita ragazzi purtroppo non cioè nel senso eh sono super diciamo sono super felice per lui che gli vada bene le cose però no 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 ragazzi l'ultima volta quando sono andato in chat sua non è che se sia però sai il problema secondo me cioè Twitch è un po' io ti ho messo una pietra io ti ho messo una pietra sopra su quello che mi ha fatto tanti anni fa però io sono andato in chat sua ok in teoria cioè siete persone io ci avevo pure risolto con gestiamo però ti posso dire una cosa il fatto che hai sbagliato quello che fa è quello che cioè è proprio tutto il contesto perché fondamentalmente è come cioè la scienza funebre capito c'è stato tante scienza funebre affermo a San Giorgio la stessa cosa è per Twitch perché bisogna far sempre guerra eccetera tra streamer che ve conoscete cioè non capisco proprio questa cosa di questa avidità che ci sta ma io non ho nessun tipo di guerra ma non tu in generale proprio questa avidità che ci sta capito non lo so io non ce l'ho con nessuno no ma non te so di te proprio in generale come proprio il mondo cioè non so proprio dei social dei Twitch in generale cioè non si vive tranquilli se ci pensi dopo tu che fai dici oh eh lei quando ci stanno in mezzo di sordi eh tutti il normale quando ci stanno in mezzo di sordi non guardi in faccia a nessuno infatti è così purtroppo perché ognuno ti raccambà e quindi tutti c'hanno paura che magari un altro ti possa portare via gente ti possa portare via views cose o sub sub qualche donatore la gente si caga sotto e quindi fa del tutto per vita a questo vabbè niente però è un discorso che non regge cioè è un discorso che può regge magari che ne so con alcuni magari alcuni casi però non tutti perché tu hai Twitch Italia a Twitch generale io non ho dato secondo me non è tutti dai vabbè tutti tutti no io ho fatto una cosa io ho fatto una cosa generale ho detto per non di cose specifiche però devi essere specifico perché per esempio nel mondo dell'ol per esempio per esempio Paolo Idolo unisce tutti quanti gli streamer cerca di cioè c'è sta un bell'ambiente capito se fanno i tornei tutto prima con Airstone pure se facevano i tornei su Twitch Italia c'erano proprio capito c'era una bella community a parte che adesso è finito proprio tutto da quando è scomparso il covid non ci stanno più i rivals per ditte che c'erano prima di chi è? ci stanno però invitano Blur sempre quelli ma quando mai non li vedo mai non vedo mai sti rivals da una vita sì sì come no a ottobre novembre quando è che c'è stato gli ultimi live ma prima era sempre ti ricordi capace che in un mese li faccia due tre non bravo full guys on fortnite ce ne stava tanti sono finiti di sordi quindi tu ce n'è forca troia e io dopo ti devo dire una cosa sono finiti di sordi no comunque rifanno no ma tu vabbè hai fatto un po' un discorso un po' generalista il problema è che ci sono streamer che magari collaborano pure con streamer più piccoli e cercano di unire tutta la community no il problema di twitch è che non aiuta più le persone che vuole cresce no twitch non è più come una volta capito twitch non è più come una volta è cambiato però io penso una cosa adesso ci stanno molto più nicchie ci stanno tante nicchie tante robe tanti argomenti tante cose perché ci sta quelli che gioca a calcio e parla di calcio quelli che seguono il calcio quelli che gioca a fifa e seguono fifa però l'unica cosa che toglie lì è che purtroppo ormai cioè non è più come prima che prima capace c'è le possibilità di crescere perché diceva ma prima c'erano più prima c'erano pochi streamer pochi giochi prima che c'era lol airston neanche già si ma twitch era solo quello però per carità adesso twitch è più vario però tu dillo chiaramente sinceramente aldone come sei comporta ma ma pure è bloccato il raid penso non lo so vabbè lo raido vabbè lo raido lo raido com'è raid gischiando ok lo raido vabbè ragazzi noi ci vediamo alla prossima vi saluto vi ringrazio mi raccomando non scrivete Matteo Kess nella chat sua che vi banna a parte già non mi ho bloccato però bellissimi noi ci sentiamo alla prossima ciao belli ciao bellissimi ci vediamo domani ciao bellissimi ciao 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 ciao